Mi sta portata a casa una vittoria davvero importante perché era il big match di giornata contro la terza in classifica, restano otto i punti di ritardo dal Cesena però arriva confermate la serie utile di vittoria. Assolutamente sì, vittoria di grande prestigio per quanto abbiamo fatto vedere in campo ma soprattutto anche perché è ottenuta contro un avversario di assoluto valore, di assoluto rispetto e questo lo dicono i punti che ha in classifica e il percorso che stanno facendo. Ma noi come diciamo sempre ci concentriamo solo sul Matelica che sta dimostrando di essere ancora una volta una squadra fortissima che sta facendo un percorso incredibile. Dicevo ai vostri colleghi che abbiamo la media punti più alta di quella dello scorso campionato che è stato combattuto fino all'ultimo secondo, noi vogliamo continuare su questa scia. Siamo arrivati alla settima vittoria consecutiva tra le quali va aggiunta anche quella in Coppa. Credo che i risultati dicono che il Matelica quest'anno sta facendo qualcosa di straordinario e vogliamo continuare, abbiamo l'obbligo morale di continuare su questo trend. Non ho chiesto alla partita in sé per sé, probabilmente il notale scorrebbe meritato il più, forse il pari. Ma è stata una partita equilibrata, giocata su tantissimi duelli, davvero. Io credo che solamente con un episodio, con una giocata del singolo questa partita si sarebbe potuta risolvere. Attraverso una grande giocata il nostro capitano, Angelili, con una palla filtrante per Bittaglie, siamo arrivati a concludere in porta. Abbiamo preso il palo e sulla respinta siamo stati più veloci di loro e siamo riusciti a portarci in vantaggio il calcio. E anche questo è fatto di episodi. Poi siamo stati bravi a rimanere compatti, uniti a lottare su ogni pallone, vincendo molti duelli, pur abbassando un pelo il baricentro. Ma credo che il Matelica abbia meritato questa vittoria importantissima. Il secondo tempo capitano Angelili, croce e delizia. Un grande assist e poi c'è stata quella espulsione. No, il capitano Angelili, delizia e delizia. Non si può assolutamente dire nulla a questo ragazzo speciale, giocatore fortissimo così come sono tutti gli altri. Ha commesso una piccola ingenuità, è stato un gesto istintivo. Chiaramente negli ultimi minuti con l'inferiorità numerica abbiamo sofferto un po' di più. In parità numerica sarebbe stato, non dico più facile, perché di facile in questo girone non c'è nulla. Ma la parità numerica ci avrebbe consentito di non abbassare il baricentro e di continuare a giocare una partita equilibrata come è stata. Detto questo voglio fare complimenti a questi fantastici ragazzi, al notaresco che sta facendo, come detto, un campionato incredibile. È stata una bella partita, siamo contenti di averla portata a casa. Viste racconti i fatti, è arrivata questa sconfitta, ma almeno il pareggio era il risultato più giusto? Credo di sì. Si sono affrontate due buone squadre, due squadre forti, credo, per quello che ho visto in campo. Loro avevano qualche assenza nell'ultimo momento, ma tu non toglie che loro hanno a disposizione una rosa ampia. Noi abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo messo in difficoltà una squadra, come è successo anche all'andata. Solo che oggi, rispetto all'andata, abbiamo rischiato meno, perché poi alla fine abbiamo subito un tiro in porta. Però poi queste squadre sanno concretizzare al momento giusto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché non ho nulla da rimproverare. La prestazione era questa, ci è mancato la zampata per poterla pareggiare se non vincerla. E quindi dobbiamo andare avanti con questa voglia, determinazione di oggi e non quella sicuramente vista a Isernia, che non è stata all'altezza della situazione per quello che è il nostro rendimento. Ma è indispettito. Sicuramente all'inizio qualche decisione dubbia c'è stata. Per quanto riguarda l'episodio mio, non so cosa possa aver inteso il Guardioline. A volte si ergono protagonisti, quindi faccio fatica perché non c'è stata nessuna mancanza di rispetto nei confronti di nessuno e nessuna protesta nei confronti della Terna. Ho solo attirato l'attenzione sul mio uomo a terra perché c'era un fallo netto, cosa che l'albero ha lasciato correre. E quindi su questo e poi la decisione del Guardioline è stata quella che avete visto tutti. La nota positiva, al di là della prestazione, che sicuramente è in crescita rispetto a Isernia, è il fatto che di fatto si resta comunque in quella posizione di classifica perché le altre non sono mosse. Beh sì, faccio fatica a far capire ai ragazzi di non guardare la classifica perché poi è quella che realmente conta. Però noi dobbiamo guardare partita per partita. Se guardiamo di fare punti, perché dobbiamo fare punti, perché siamo obbligati a fare punti, non siamo obbligati a fare nulla, siamo obbligati a fare domenica per partire la prestazione come è successo oggi. Poi non è venuta la vittoria, anzi abbiamo raccolto zero punti, questo ci deve lasciare un grosso rammarico, però la prestazione che sia positiva. Quindi questa è la situazione in questo momento.